Ecco oggi c'è il Big Match domenica, gara clou della giornata del campionato giovanissimi Girone Chieti tra la Virtus Lanciano capolista e la Virtus Castelfrentano in seconda posizione. L'unica sconfitta subita dalla Virtus Castelfrentano è stata proprio con la Virtus Lanciano. Oggi speriamo di riprenderci con gli interessi i tre punti. Ecco i nostri ragazzi con la classica maglia giallorossa, il mister Gabriele con la tuta gialla, la nostra panchina in fondo e a questo lato ci sono i ragazzi della Virtus Lanciano capolista che giocheranno con la maglia colore bianca. Ecco il nostro presidente e responsabile dell'area tecnica della società. Qua c'è il nostro Zulli, tocca al lupo. Anche a voi. Eh grazie. Ma voglio un'altra aiuta? Eh? Non gioca? Sì. Tu lo fai a bancaire? Ah no no, sta fortunato. Eh mo sta recuperando, ha fatto delle sedute di fisioterapia, sta recuperando, non gioca. Com'è il signor? Va' il signor, lui può andare di là. Eh, e dì, ah. Eh, Gabriele, dove ti piace stare? Qua? Ah qua, eh, gli piace stare ecco. Eh, mica ti crea difficoltà? No? A poco. A poco, ok. Va bene. Ecco la nostra forza panchina. Il numero 13, Enrico. Nicolò numero 17, il 14 Emanuele, no, Luca, il 16 Emanuele, il 18 Bartolo, il 15 Caran, la Volpe del Deserto, eh. Qua ci abbiamo il Guardalini e il Gabriele, Reduce da un infortunio. Il Leone del Deserto. Qua abbiamo Filippo, Lorenzino. Giovanni, basta pure il Nicolo, facate! Ok. Ecco i nostri ragazzi. Fa una ripresa al massaggiatore Scalini.